Ci sono dolci per ogni occasione e ogni occasione buona per un dolce. Sembra questa la filosofia che ispira da sempre lo chef pasticciere fanese Stefano Ceresani che questa volta ha indirizzato il suo estro creativo alla squadra di calcio fanese che con questa spumeggiante stagione ha rilanciato il fervore calcistico in tutta la città. Dentro c'è una purea che abbiamo fatto noi color granata e per farla diventare color granata ci abbiamo messo tutta la frutta fresca che è il mirtillo, i frutti di bosco, le fragole, lamponi eccetera e assomiglio un pochettino al color granata perché oltretutto non volevamo assolutamente metterci coloranti. La chicca sono le scarpe di Andrea Borrelli. Andrea Borrelli è il mio campione, il nostro campione di Fano che tanto successo, soddisfazioni ci ha dato e ti ha fatto un grosso piacere questa sera a tagliare la torta con Borrelli, con lui. La soddisfazione quest'anno purtroppo non è arrivata alla vittoria del campionato merito anche di un avversario che non avendo mai perso sicuramente ha meritato sul campo però merito anche a questo Fano che forse non ha vinto il campionato però ha dato tantissime soddisfazioni soprattutto il campionato suo l'ha vinto coinvolgendo un'intera città e penso che sia una delle soddisfazioni più belle e più importanti anche della mia carriera. Grazie 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 Grazie